e non è il culturale, l'arte abbiamo un quadro e non è una crosta anche se è di pane è un piccazzo originale è un piccazzo di pane spunto? io lo so il prossimo brano come si intitolerà? vave di cemento? troppe di arte? no! gocci di pane! no! 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 Aiuto laberardo. Mi guarda sulla ciotera. Cotto non sento, non vi preoccupare. Ma solo una savagaccia. Tutto sul Il sogno è in più. Non ti puoi vivere. Non ti puoi vivere. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti